Il momento in cui è messo le riprese con lui Questa è così Però questo è un po' male, nel senso che magari non ce l'ha sentita stamattina La rifacciamo? Sì, perché è tagliata così. Dopo sì. Stiamo cercando gli ultimi due signori per fare una ripresa. Proviamo a darle le due addirittura. No. Una, apriamo. Però non si vede la faccia? Sì, sì, lui si vede adesso. Fermi così mobili con le palette. Aspetta, ne facciamo un'altra anche dopo. Un po' così, no? No. Sì. Devi dire alla fine ciao Ricchi. Ciao Gino. Lui replica, lui lo dice. Beh, io metto a foto. Non faccio fare giochi. Ah, non ciò per me. No, no. E non cagola domani. Non ciò che faccio. No, non vedete che sei in attraverso. Sto occupando te, figliessi. Non possiamo. Come si può venire strano, ma ci vorrebbe Grin a inizio. Grazie.